Comune in mare Questa informazione è molto importante perché ricordiamo che negli anni scorsi, soprattutto l'anno scorso, ci sono stati dei difetti di comunicazione e degli allarmismi che hanno danneggiato non poco l'economia locale su uno stato di salute del mare che in realtà era stato propagandato come un cattivo stato di salute. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare la regione, degli esperti, il professore greco dell'università che ci hanno detto chiaramente che la nostra regione è una di quelle più pulite, di quelle più pure d'Italia e quindi siamo una regione di serie A. Ringraziamo anche l'ARM che è intervenuta, che fa un controllo continuo dell'ambiente e ci ha rassicurato e dato il supporto, ci ha rassicurato sullo stato attuale. Ci hanno convinto in formato del loro supporto costante in merito al controllo del territorio che non è mai mancato e non mancherà. Questo ci fa essere fiduciosi per l'inizio di questa nuova stagione turistica che porta non poca economia alla nostra costa, ai nostri paesi della costa ionica.